Salve Lucio Pascarelli, molti di voi mi hanno già visto altre volte e volevo fare un commento proprio su quello che oggi è il tema del dibattito. Circa un anno fa ho organizzato una cosa a casa, un pranzo, un sabato, per parlare di intelligenza artificiale. Incontro Sergio, poi un paio di mesi dopo, forse un paio di settimane dopo, incontro Roberto, c'era anche Rufo e insieme ci siamo lanciati in questa avvettura di organizzare questa serie di convegni. Per me dall'inizio la ragione per cui la volevo farla era per l'impatto sul lavoro, che poi adesso concludo un po'. Abbiamo fatto il primo convegno su utopie e distopie. dell'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto un secondo convegno sull'intelligenza artificiale e democrazia. Poi abbiamo fatto un terzo convegno che era più una specie di divulgazione su cos'era l'AI e adesso finalmente siamo arrivati a intelligenza artificiale e il lavoro. Perché? Dunque, come molti voi sanno, io ho fatto 35 anni in Nazioni Unite, gli ultimi 20 da dirigente, sono un nerd, prima programmazione del 77. Nell'87 entro in Nazioni Unite con l'introduzione dei PC. E ho vissuto all'interno di Nazioni Unite tutte le rivoluzioni del digitale nell'ambiente del lavoro. Anzi, ne ho fatto una carriera. Se ben ricordo circa 30 anni fa ho firmato il prima NDA con la Microsoft, il primo accordo di confidenzialità per quello che mi facevano vedere, mi hanno fatto vedere la prima volta NT circa un annetto prima che è uscito. Poi ho firmato accordi di confidenzialità con Apple, con Amazon, con Google e ho fatto parte di... ho sempre dovuto gestire quel rapporto tra organizzazione, HR e giustificazione di una spesa di prodotti e servizi nati dall'intelligenza artificiale. Quindi il concetto di produttività, io compro Microsoft Office o compro Outlook come servizio, è perché mi dà dei vantaggi all'azienda. Nel 2019, uno degli ultimi viaggi che ho fatto nella West Coast, che spesso andavo lì e facevano i vari... si chiamavano executive briefings, Microsoft apre apertamente a noi delle Nazioni Unite tutto il discorso dell'EI. Era appena uscito GPT 2. E tutta la loro linea prodotti è incentrata già sull'EI. Nel 2020 esce co-pilot su GitHub ed è il momento in cui tutti noi ci... capite il gesto? Perché ci rendiamo conto del potenziale bestiale che l'EI ha nel scrivere software, perché la prima cosa è l'applicazione alla scrittura del software. Nel 2000... io ho due figli che stanno nella startup di intelligenza artificiale perché sono anni che avevo intuito che questa era la nuova rivoluzione dell'informatica. Nel 2022, nell'estate, esce stable diffusion e l'EI diventa open source. Poi, alla fine, nel 2022, esce GPT 3 ed esplode tutto. Nel 2023 siamo a GPT 4, a co-pilot 365, che è sostanzialmente il prodotto finale con cui Microsoft sta cercando e succederà a rivoluzionare il mondo del mercato. Perché oggi l'intelligenza artificiale è completamente integrata all'interno di tutta la suite di prodotti di qualsiasi azienda di una certa dimensione A. E se uno ha visto la presentazione di Nadella due settimane fa, tu crei un dipendente con pochi clic. A 30 dollari al mese di licenza, tu crei quanti dipendenti vuoi. Quindi, 360 dollari l'anno, tu hai una serie di assistenti tuoi che hanno tutto il sapere dell'azienda, tutta l'email, tutto quello che è salvato, tutto quello che viene processato. Imparano in tempo reale, si conferma? Sostanzialmente tutto deriva direttamente dall'enorme potenzialità di mercato che l'intelligenza artificiale ha. Quindi chi è che controlla l'intelligenza artificiale? Il datore di lavoro, perché la comprerà, perché avrà sicuramente un vantaggio di competitività e di produttività. E finisco col dire, OpenAI esplosa tutto due settimane fa. Sapete cos'è la definizione di AGI, della non-profit di OpenAI? Quella che in teoria la board doveva difendere. Leggo, l'intelligenza artificiale è definita come un sistema altamente autonomo che supera gli umani non nella filosofia, non nella creatività, ma semplicemente nella maggior parte del lavoro economicamente valutato. Cioè sostanzialmente per loro AGI è quando raggiungiamo il livello in cui un prodotto a 3 dollari al mese è nettamente più competitivo che un dipendente a 2.000 euro al mese. E questa è la ragione. Secondo che noi dobbiamo parlare di capire cosa faremo per questi dipendenti, perché non la fermiamo. E la battuta che facevamo con Sergio due giorni fa, basta con questa bandiera falce e martello. Mettiamo mouse e tastiera, perché la vera lotta oramai sarà quella. Grazie.